Era diverso tempo che la cittadinanza mi segnalava un gesto infame, cioè venivano asportati fiori dai cimiteri del nostro comune. Allora ho deciso di prendere il toro per le corna e ho fatto installare una fototrappola. Grazie a questo abbiamo individuato la persona che faceva questi gesti ignobili, se non infami. Potrebbe avere le ore contate questa signora che da tempo agiva indisturbata al cimitero di Covolo di Pederoba, asportando vasi e fiori, una depredazione continua che ha convinto il comune a usare le maniere forti, tanto da formalizzare una denuncia in caserma dai carabinieri, del resto la misura era colma. La stessa sera, in un arco di cinque minuti, ha fatto quattro viaggi, tra parentesi, portando via diversi vasi di fiori, diversi mazzi di fiori. Penso che non si possa descrivere una persona così se non infame. Spero che si riconosca magari nelle immagini che sta vedendo ora, che chieda scusa, ma non tanto sottoscritto, a quelle persone che hanno subito questi furti. In realtà non si tratta di un fenomeno confinato a Covolo, il giro di vite è complessivo. Abbiamo tre cimiteri nel nostro comune, questi atti schifosi si sono verificati anche negli altri campi santi, e di conseguenza ora la fototrappola farà il giro degli altri luoghi in modo tale da individuare eventualmente se ci sono altre persone che fanno questi gesti ignobili. I ladri di cimitero sono così avvisati anche su eventuali contromisure. Per la signora, beccata dalla fototrappola, il primo cittadino avrebbe già in mente una sanzione alternativa, una sorta di legge del contrapasso. Più che altro di perdere tempo nel rubare i fiori dalle tombe dei cimiteri, può venire in cimitero lo stesso e donare qualche ora del suo tempo libero a favore della comunità, magari tenendo in ordine i cimiteri, pulendoli dell'erbaccia e quant'altro.